I soldi rubati ai poveri per ingrassare ricchi conti corrente, anche nei paradisi fiscali. Il patto scelerato con la mafia, con il defunto mamma santissima Damiano Vallelunga e con la malavita vibonese, quella dell'ex padrino emergente Andrea Mantella, che da pentito oggi racconta tutto. La condotta intimidatoria e vessatoria contro un dirigente regionale che non voleva piegarsi, Bruno Calvetta. Per Nazareno Salerno e il suo comitato d'affari, l'inchiesta di Ross e Guardie di Finanza, coordinata dal procuratore aggiunto di Catanzaro Giovanni Bombardieri, segna la fine. Dalle carte delle indagini d'altronde spuntano nuove retroscena che potrebbero mettere in imbarazzo anche altri settori della pubblica amministrazione. Si prenda Vincenzo Spasari, il 56enne impiegato di Equitalia arrestato, il papà della sposa atterrata a Nicotera a bordo dell'elicottero, uno che avrebbe stretti rapporti con i Mancuso da una vita. Scrivono i carabinieri del Ross, proprio Spasari si sarebbe interessato ad una clamorosa vicenda che interessò l'allora capo della polizia municipale di Vibbo, Filippo Nesci. Sospeso su impulso dell'ex prefetto Giovanni Bruno per non aver ottemperato ad un ordine del questore, Nesci, per rimediare alla sua grana con i vertici delle istituzioni vibonesi, avrebbe chiesto aiuto proprio a Spasari, che a sua volta investì del problema Giuseppe Rizzo, indicato come portavoce e uomo di fiducia del super boss Luigi Mancuso, oggi irreperibile. Ricostruiscono gli inquirenti il retroscena di una vicenda che la storia ricorda si sarebbe risolta in maniera indolore per l'allora comandante della polizia municipale vibonese, il quale col tempo avrebbe poi alimentato la sua influenza in seno al comune di Vibbo Valencia. Da Vibbo Valencia per la Cinus24